quando mi trovo a pensare alla poesia che vorrei fosse suscitata attraverso le mie parole e ciò che faccio intorno e attraverso le mie parole mi imbatto da anni e torno ossessivamente su due parole che mi sembra in qualche modo siano una prima bussola ecco per orientarmi prima di tutto quello che faccio la prima parola è la parola esperienza quando diciamo esperienza non sempre intendiamo una cosa sola da un lato infatti esperienza parola ambigua parola doppia dice di qualcosa che si presenta nel nostro presente appunto che è qui davanti ai nostri sensi adesso dall'altro però esperienza dalla sua lunga storia etimologica ci porta ad un'altra conclusione esperiri peirao il tedesco er farung ci dicono di un altro tipo di significato di qualcosa che ha a che fare con un tentativo qualcosa che ha a che fare con un azzardo con una sfida che si porta su di sé qualcosa che passa dal far dal lontano dell'incertezza e del pericolo ecco la poesia che voglio spero di aver fatto spero di fare insomma si oppone radicalmente ad ogni uso turistico del linguaggio ecco e vorrei che la poesia e la sua esecuzione stia invece proprio attanagliata fino al silenzio se necessario a questa duplice intensità che porti il lontano quel pericolo nel vicino e il vicino verso quel lontano pericoloso quindi una poesia che sia innanzitutto un'esperienza di stile ma che non concepisca lo stile come un'ideologia una gabbia ma come un veicolo lo stile è il veicolo attraverso cui il lettore prima di tutto quindi io che leggo questo stesso testo no sia consapevole del mondo là fuori oltre le parole alla fine delle parole cerco di tenere insieme intenzione in contraddizione anche continua una realtà della mente e una realtà appunto dei sensi una realtà della della tradizione della memoria una realtà invece della percezione e dell'immediatezza anche violenta col mondo ecco in questo senso credo in una poesia che sia anche e qui introduco la seconda parola una ricerca so che questa parola è altrettanto ambigua come la prima e che ha una sua storia particolare però per me è l'unica parola che davvero racconta di quello che io sento profondamente di fare cioè una poesia che sia ricerca dell'esperienza e quindi anche ricerca della voce qualche modo io credo che la poesia quella che io provo a fare provi il più possibile a coincidere con il respiro e segua questo come sua unica metrica affinché ogni verso in qualche modo sia prova e contemplazione del fiato che si esaurisce nel verso quindi una poesia che provi in qualche modo a non essere ferma a essere in qualche modo governata da demoni verso un orizzonte mobile e che sia prima di tutto un'esperienza impronosticabile per chi la scrive e per chi poi la la incontri vi leggo una poesia verso le stelle glaciali libro del 2020 tutti questi mondi che camminano che prendono che sconfinano c'è spazio qui e canta l'arabo col maione azzurro mentre passa il tram scavalcata come bidone primavera cemento ogni cosa splende si perde e dice stai frammondi confraternati con labbra di grafite di loro slacciatevi spargetevi dislocatevi il ragazzo ha già le pupille dilatate e i luminosissimi lumi del mondo si distendono e si gonfiano di riso e pianto mentre va un altro giorno a morire dietro gli umani sogni che ruotano che gridano che camminano grazie